Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assurgo, giuro di prestare in scienza e coscienza la mia opera con diligenza, perizia e prudenza e secondo dei quadri, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina. E quelle giuidiche che non risultano in contrasto con gli scopi della mia professione. Io giuro, ho appena frullato e aspirato dieci... Ma è combinare la mia aura con la tua negatività, eh? Per cortesia! Finché c'è un sottoposto, c'è qualcuno a cui far sporcare le mani che noi vogliamo tenere pulite. Dottore, cosa vuole che ne faccia di questa? Ma che cosa vuole che ne sappia? Me la faccia sparire, me la levo intorno. Vedi, così non ci sta! Buono, va! Ho fatto bene a darmi le bocche, eh! Tu rappresenti tutto quello che io odio! Ti metesto! Ma è un ruolo! Mi ricordo che il cuore che cos'è! Un peso inutile! Adesso con queste comode beatbox in silicone lavabile Devo dire che il mio cuore funziona meglio di un orologio svizzero Niente più scrupoli, amareggiamenti, inutili partecipazioni emotive Forza! Mettetemi anche voi al passo coi tempi Compratevi! Beatbox! Tonight! Lipuccia! È tardi! I cannot stay! Good night, lippa! È una snocce! Mario!